Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti finalmente al giveaway! Io sono XIUDER e oramai è un po' di giorni che ve lo dico ma non ero sicuro fino ad adesso praticamente fino a 30 minuti fa di poter mettere finalmente in palio per uno di voi questo piccone fanterrimo che è un misto tra fantastico ed eccezionalmente supremo. Il Mint Axe, il piccone ascia caramella in italiano lo vedete in una delle skin più rare che utilizzo in questo momento, il Cavaliere del Ragno. Allora ragazzi, come si fa? XIUDER qua non ce ne frega niente di quello che dici, io voglio il piccone. Sì, prima ragazzi devo ovviamente ringraziare chi il piccone in realtà lo sta mettendo veramente in palio ed è ovviamente il sito fortnitestore.io. Mi raccomando ragazzi lo state vedendo alle mie spalle, è un sito che ha anche disponibile, è quello che sponsorizzo sempre in quanto posso già quasi definire sia un amico. Lui lo vende a una sbregata esagerata proprio, costa un sacco di soldi ma noi ci abbiamo un codice e quindi possiamo tranquillamente. Parla americano, non capisce neanche quello che dico quindi, easy nel senso, però lui ha anche le skin, comunque quindi vende la glow, vende ancora, ancora c'è il Dark Vertex, il bundle di Priest, lo spray del lama e tante altre cose ragazzi. Tra cui anche il Cavaliere del Ragno Bianco, quello che vedo io, fortnitestore.io. Mi raccomando, se volete farci un salto, allora la prima cosa da fare ragazzi è iscrivervi al canale subito perché sennò rischiate che il sistema di pescaggio non vi conta. Quindi subito l'iscrizione al mio canale, poi dovete solamente commentare qua sotto con quello che vi pare, potete dire veramente qualsiasi cosa. Una volta che voi avrete commentato, è inutile che commentate 3-4 volte, tanto il sistema conta solo un commento per ogni persona. Domani, probabilmente quando siete in tanti, quindi nel primo pomeriggio durante la trasmissione, estrarrò il vincitore e lo scriverò qua sotto in commento pingato in alto. Quindi ragazzi, due passaggi per vincerlo, iscrivervi al mio canale, commentare questo video e domani, nel primo pomeriggio, estrarremo il vincitore. Ringrazio e ringraziamo fortnitestore.io per averci regalato questo codice, ringrazio tutti voi, in bocca al lupo, noi ci vediamo in live domani mattina su Twitch alle 8. Ciao! Ciao!